I poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Gela hanno tratto in arresto un 29enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, dovendo lo stesso scontare la pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione a seguito di una sentenza di condanna emessa dal Tribunale per il reato di omicidio colposo avvenuto nel novembre del 2018. Dopo le formalità di rito, l'arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Gela. I poliziotti della squadra mobile hanno invece tratto in arresto un 33enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Caltanissetta, dovendo lo stesso scontare la pena di 2 anni e 9 mesi di reclusione a seguito di una sentenza di condanna per il reato di tentata rapina. Pertanto il 33enne, dopo le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Caltanissetta.